Paramahansa Yogananda Autobiografia di uno yogi Paramahansa Yogananda Astrolabbio Pag. 30 Nota 1 Chioto Mahasaya è l'espressione con cui molti santi indiani mi si rivolgevano e si traduce Piccolo Signore Commento Il termine guru in occidente è spesso usato per burlare un personaggio In realtà guru significa degno della venerazione dei discepoli cioè santo, cioè evoluto Solo un santo, solo un evoluto può chiamare piccolo signore un postulante Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti